Abbiamo introdotto l'Hydra perché ci sembrava un'ottima iniziativa da introdurre nel locale, soprattutto perché siamo sempre stati attenti all'impatto ambientale, alla sostenibilità e alla riduzione della plastica. Abbiamo notato una riduzione del 50% se non 80% di riduzione di bottiglie di plastica e abbiamo notato soprattutto una risposta positiva da parte del cliente nel notare questa nostra attenzione. La possibilità di avere una bottiglietta di vetro mentre fai il pranzo ti dà una sorta di importanza e sapere comunque che aiuti il pianeta e aiuti questo movimento di plastica penso sia proprio...